Parliamo della legge del 2016 che istituisce la figura del cargiver per i disabili gravi e gravissimi. Questa legge, nonostante sia stata finanziata per 1.400.000 euro, è stata completamente inapplicata e inattuata perché a Regione Abruzzo si è dimenticato, udite udite, di fare le linee guida. Che cos'è il cargiver? Istituisce la figura di colui, del familiare, che si prende cura dei propri cari disabili e gravissimi. Quante persone ci sono che accompagnano il disabile dalla mattina quando si alza alla sera quando va a mettersi a letto? Sono per lo più donne, persone che il 66% delle volte perdono il proprio lavoro per assistere il familiare e questa legge istituiva un contributo economico al cargiver, un assegno per l'adattamento domestico, quindi per agevolare l'acquisto di cose utili al disabile per la vita quotidiana e istituiva la giornata del cargiver day. Il cargiver day, tutto ciò non è stato fatto, nonostante questi fondi. La cosa ancora più grave è che di questo 1.400.000 euro la maggior parte dei fondi sono tornati indietro perché non utilizzati. Adesso quest'anno ci sono ancora 378.000 euro nel capitolo sul cargiver e io sono stato costretto di scrivere una lettera al Presidente della Regione e all'assessore alle politiche sociali quaresimali per chiedere di fare presto, subito, le linee guida entro domani perché se domani non si approvano le linee guida si rischia di perdere ulteriori fondi, 378.000 euro e soprattutto non supportare in questa fase delicatissima perché in questa fase delicatissima il cargiver familiare fa risparmiare molti soldi alla sanità pubblica ed evita che tanti disabili vanno ad entrare nelle residenze assistite, sanitarie, case di riposo e voi sapete che quello è il luogo purtroppo spesso di grandi focolai. Secondo lei perché non è stata applicata questa legge? Questa è una gravissima ed andambienza che sto denunciando oggi, una cosa che non vorrei raccontare perché se la Regione Abruzzo approva una legge nel 2016, ci mette le risorse per 1.400.000 euro e si dimentica che esiste questa legge in Regione Abruzzo, lasciando abbandonati i cargire familiari vuol dire che è una Regione che non sa fare il proprio mestiere.